Il protocollo su cui stiamo lavorando da tempo ha un grande valore, innanzitutto perché mette insieme tante istituzioni, enti, associazioni, anche nel settore religioso, quindi laiche e religiose, e il Comune sempre di più sta mettendo in campo quell'azione di coordinamento, perché certe volte si è detto proprio questo, ognuno sembra che va un po' per la sua strada, anche se in modo molto meritorio. Noi abbiamo voluto mettere insieme queste realtà e dare un segnale forte che noi vogliamo contribuire a rafforzare i corridoi umanitari. Questo è un tema importante per i rifugiati, richiedenti asilo, per le persone in difficoltà e per le famiglie.